eeeh ragazzi buonasera ritorniamo in versione classica allora allora 5 vittorie di fila 5 vittorie di fila io non è incredibile è un inter irriconoscibile nel senso buono finalmente una vittoria convincente stavolta anche se che partiamo sempre col gol dell'anti col gol è un classico il gol dell'handicap un classico sempre il gol dell'handicap dobbiamo subirlo 1 a 0 primo tempo un po' così poi c'è stato il carattere c'è stato abbiamo praticamente dominato tutto il secondo tempo quello non c'è dubbio la vitro è stata meritata c'è poco da dire bel gol di cardi devo dire complimenti per il bel gol che andrea finalmente ne ha azzeccato un cross come si deve eeeh subito dopo praticamente a quasi nessun occasioni il gol era nell'aria fortunatamente pericic grazie ivan grazie ivan pericic che ancora ci regali tante gioie ed è 2 a 1 addirittura con la ciliegina sulla torta di eder 3 a 1 una vittoria quelle fantastiche fantastiche oh sono contento finalmente un altro weekend con un bestemmio anche se comunque l'ho vista brutto ho detto mica non ci può andare sempre bene stavolta invece ci è andata di nuovo bene sempre gol più o meno gol di vantaggio stavolta di nuovo all'ultimo minuto no non l'ultimo ma gli ultimi minuti va bene così ragazzi finalmente però io io non mi esalto non mi esalto non mi son contento per carità a 5 vittori di fila ci vuole per 15 punti così di botto ci vogliono perché se vogliamo arrivare in zona in zona europa che conta bisogna farsi di tutti questi risultati ci va il culo è con il culo ci va sempre ci va anche la grinta comunque per per mettere a posto il risultato nel caso in cui vai sotto di un gol effettivamente differente a quattro mesi fa si è vista perché quando andavamo sotto di un gol andavamo sempre in crisi adesso invece si è vista si è visto il carattere giusto per volere per proprio per te visto che comunque la vittoria era voluta insomma poi chievo si è un po chiuso ovviamente in trasferta queste squadre cercano sempre di fare risultato a san siro quindi si accontentano anche di un pareggio fatto che poi chiudendosi troppo poi comunque prima o poi il gol arrivo ovviamente sorrentino ovviamente iniziato a fare i miracoli parate allucinanti poi ha fatto fino a che ha fatto la cappella poi sul gol sul gol di perisic che non c'è da parlare bene però per esempio ha fatto una grande azione ed era anche comunque no sono contento dalla fine una vittoria meritata che ci fa sorridere un altro po spero ancora per un bel po la strada è lunga siamo ancora a gennaio quindi secondo me per valutare veramente se siamo da stesso posto bisogna aspettare marzo aprile perché adesso troppo presto per dire perché arriverà al crollo arriverà arriverà il crollo risultati quello sicuro adesso è un momento buono quindi questi punti ce li teniamo in saccoccia ben stretti perché sono molto importanti per arrivare in buona posizione a fine campionato detto ciò altri giocatori devo dire che ha fatto una buona partita gaiardini non mi è dispiaciuto devo dire però è presto per valutarlo ancora se in grado di essere un giocatore da inter aspettare qualche ancora qualche partita con dobbià forse qualche miglioramento si è visto ma anche lì non mi salterei troppo non capisco perché pioli non si ostina a non mettere gabi gol non lo capisco mette sempre palazio per carità a esperienza può servire però porca troia metti log sto cazzo di gabi gol porca puttana vuoi vederlo giocare come si deve possibile martedì in coppa italia lo vuoi titolare ma non fatto un cazzo pioli martedì in coppa italia lo devi mettere titolare non me ne hai fatto un cazzo non me ne hai fatto che devi mettere titolare gabi gol che mi sono rotto i coglioni di vedere sempre sempre palazio per edel due minuti metti coppa italia metti gabi gol titolare insieme a un altro attaccante edel o palazio metti che cazzo vuoi basta che sto gabi gol porca lo metto che io voglio vederlo giocare dall'inizio per favore bioli facci sto favore martedì è una partita importante sono gli ottavi di coppa italia contro bologna vediamo di vincerla quella perché la coppa italia è molto importante è molto importante io non dico che dobbiamo vincerla anche se ci spero perché è la nostra portata la coppa italia è la nostra portata se giochiamo così concentrati con la testa con la testa giusta perché si è visto che comunque il carattere c'era da voglia c'era magari magari in ambito tecnico alcune cose sono un po a singhiozzo d'ambrosio l'altro l'apparenza d'ambrosio sembra che comunque qualcosina di buono lo faccia e niente ragazzi vi saluto forse intera ancora cinque vettori di fila che dire di più sono contenti un altro weekend fantastico vediamo le altre cosa fanno ma neanche più di tanto guardiamo cosa facciamo noi noi facciamo il risultato facciamo il risultato miglior possibile in questo caso i tre punti sono molto importanti cinque vittori di fila che noi facciamo da settembre 2015 e comunque cinque vittori di fila sono belle sono belle quando vinci sempre poi comunque i risultati vengono anche la in ambito psicologico i giocatori sono un po più pimpanti a meno credo comunque aiuta tanto il morale vincene tante però non mi deve farci esaltare troppo ed essere troppo convinto di vincere le partite in tutti i casi perché non sempre può andare bene non sempre può andare quindi ci vediamo martedì inter bologna mi raccomando la coppa italia oh gabigol titolare pioli gabigol titolare gabigol titolare lo voglio e ci vediamo alla prossima forza inter cinque vittori di fila cinque vittori di fila finalmente voglio vedere gabigol titolare gabigol titolare cazzo pioli pioli gabigol titolare martedì i ci vediamo alla prossima per la prossima per la prossima